L'unica cosa che... Martedì 14 agosto, San Massimiliano Maria Colbe. È il 226esimo giorno, dall'inizio dell'anno ne mancano 139 al termine. Il sole sorge alle 6 e 11 e tramonta alle 20 e 23. La luna si leva alle 9 e 42 e tramonta alle 22 e 19. Daniele Manin saluta per l'ultima volta la guardia civica schierata in piazza San Marco a Venezia. Nei 17 mesi della nostra rivoluzione si mantenne puro il nome di Venezia, già vilipeso ed ora venerato da amici e nemici. Il merito principale è dovuto allo zelo infaticabile della milizia cittadina, il cui nome rimarrà onorato nella storia. Preso da commozione, Manin conclude singhiozzando. Io non ho mai ingannato alcuno. Se volete, dite pure questo uomo si è ingannato. Ma non dite mai quest'uomo ci ha ingannati. Le previsioni per domani. Possibile residua instabilità nelle prime ore sui settori più meridionali della pianura, dove saranno probabili locali precipitazioni. In seguito il tempo diverrà più stabile e in prevalenza soleggiato, salvo locali annuvolamenti in montagna con precipitazioni generalmente assenti. Temperature minime stazionarie o in ulteriore diminuzione, massime in ripresa. Venti moderati da nord-est sulla costa e pianura limitrofa al mattino. In seguito deboli variabili. Grazie a tutti.